benvenuti in un nuovo video di quadricottero news dji osmo pocket 3 la sto provando da qualche giorno e la trovo eccezionale se non fosse per un grave problema un problema che non è stato evidenziato comunque poco evidenziato dai recensori europei perché dico europei lo scopriremo tra poco nel mentre vi invito ad iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto osmo pocket 3 può fare anche le dirette in streaming su youtube ma anche via rtmp può funzionare anche da webcam compatibile con streaming yard con zoom con google meet e via dicendo e le batterie particolare quella esterna che funge anche da manico gli permette di superare abbondantemente le due ore abbinando la batteria esterna a quella interna purtroppo però c'è questo grave problema che non permette di raggiungere questi minuti soprattutto quando registriamo a 4k 60 fps e ancora peggio in slow motion 4k 120 fps perché con queste risoluzioni va presto in surriscaldamento e si spegne in questo momento ho avviato la registrazione in slow motion 120 fps e con una camera termica possiamo notare che già quando è passato soltanto un minuto e mezzo la osmo pocket 3 inizia a scaldare il punto dove scalda di più è sicuramente la testa della camera del gimbal camera ha anche le alette di raffreddamento ma c'è anche un punto dietro al display vediamo che adesso la testa del gimbal è sui 40 gradi e non ci sono problemi velocizzo le riprese per non farvi aspettare troppi minuti vediamo che siamo arrivati a due minuti e mezzo di registrazione in slow motion 120 fps 4k nel frattempo la temperatura sta progressivamente aumentando nei due punti più caldi come abbiamo visto dietro al monitorino e sulla testa del gimbal camera adesso siamo a tre minuti e mezzo di registrazione la il gimbal ha raggiunto quasi 45 gradi vediamo cosa succede sotto abbiamo 43 gradi sempre 45 gradi proseguiamo siamo a 4 minuti e mezzo temperatura continua a salire interrompo l'accelerazione adesso la ripresa è in velocità normale vediamo che siamo a 46 gradi siamo a 5 minuti di registrazione in slow motion andiamo avanti da notare che l'impugnatura in basso e si calda ma non è che è bollente quindi si tiene tranquillamente con la mano però la parte sopra 47 gradi quasi 48 gradi vediamo cosa succede ed ecco che è andato in sovratemperatura come possiamo leggere dispositivo sul riscaldato registrazione interrotta e questo è un grave problema che perché se registrava in 4k 60 fps avrebbe raggiunto 13 14 minuti non di più è un problema che colpisce gli osmo pocket 3 attivati in europa quando lo acquistiamo dobbiamo attivarlo con la dji mimo e c'è un blocco di sicurezza imposto dalla normativa europea quanto pare e quando il osmo pocket 3 raggiunge 48 gradi si spegne o si blocca comunque per sul riscaldamento e adesso vediamo che c'è una soluzione la soluzione è quella è inserita in questa schedina come vediamo ho inserito questa schedina e osmo pocket 3 continua a funzionare sempre in registrazione 4k 120 fps non si spegne più per sul riscaldamento non si ferma più per sul riscaldamento perché all'interno di questa schedina c'è un file diciamo così di hacking praticamente questo file disattiva la protezione europea sulla sovratemperatura è un po come il file che su avata forza i visori e avata in fcc per ovviare alla debolezza del segnale radio sulla 5,8 gigahertz quando vola in europa perché sulla 5,8 avata farebbe 100 200 metri con questo file di hacking si porta in fcc quindi riesce a volare più lontano e qua su osmo pocket 3 è lo stesso discorso stessa filosofia c'è un file di testo da creare con all'interno una istruzione file di testo che però non deve avere l'estensione si inserisce nella radice della sd card e da quel momento in poi osmo pocket 3 non avrà più il limite di temperatura come stiamo vedendo con la schedina al cui interno c'è questo file di hacking continua a registrare adesso siamo a 6 minuti e mezzo temperatura 56 gradi quindi ha superato abbondantemente i 48 gradi e non si ferma e vi posso assicurare che continuerà così senza andare in blocco per sul riscaldamento praticamente è la modalità usa statunitense negli stati uniti non c'è il blocco di temperatura che c'è invece in europa è tipo il discorso fcc negli stati uniti ci sono potenze più elevate che in europa non sono concesse e su questa protezione della temperatura il concetto è lo stesso mamma europa ci vuole proteggere ma con la protezione europea osmo pocket 3 è praticamente poco utilizzabile adesso a 8 minuti fermo la registrazione perché voglio fare la controprova e cioè togliere la schedina con il file di hacking e voglio inserire la schedina normale che non ha questo file vediamo cosa succede c'è un po' un problema sull'inserimento delle micro sd su osmo pocket 3 bisogna avere un unghia a insistere però come vedete appena visto che c'è la schedina senza file di hacking si è spenta perché è andata in blocco per sovratemperatura vedete si fa un po' di fatica a inserire questa schedina bisogna dargli il colpo giusto ecco adesso l'ho inserita proviamo ad accendere e vediamo cosa succede avviamo la registrazione sempre ecco vedete va in sul riscaldamento e si spegne perché la temperatura è molto più elevata rispetto ai 48 gradi ed ecco come disabilitare questa protezione europea sulla temperatura tenendo presente che appunto è una regola che deve avere il prodotto quindi se si sblocca in questo modo teoricamente il prodotto non è più conforme con le disposizioni europee sul prodotto pertanto questo video è da intendere a livello educativo informativo inoltre bisogna sapere che la temperatura diventa più elevata e non ho idea se questo sblocco elimina totalmente le protezioni di sovratemperatura ad esempio si elimina anche quella più alta per il mercato americano quindi ripeto nuovamente che questo è un video informativo educativo attenzione a questi aspetti comunque per sbloccare bisogna creare questo file di nome crackconfig quando l'ho visto su internet perché è un metodo che è già stato utilizzato su osmo action 3 e anche osmo action 4 per la sovratemperatura e funziona anche con osmo pocket 3 come abbiamo appena visto quando ho visto questo file mi è sembrato strano che funzionasse e funziona anche con questo nome quindi si crea un file di testo crackconfig si scrive all'interno eat test si salva togliendo l'estensione txt il file non deve avere estensione si inserisce nella micro sd card che si utilizza per la registrazione come detto è un sistema molto simile concettualmente alla forzatura fcc dei visori e di dji avata e qua vi chiedo secondo voi questo sistema è stato trovato in modo fortunoso da qualcuno oppure è un'informazione che è passata sotto banco da parte di qualcuno che lavora per dji fatemelo sapere nei commenti nel frattempo vi ringrazio per l'attenzione vi invito ad iscrivervi al canale se non avete ancora fatto e vi do appuntamento con il prossimo video su quadricottero news buona continuazione a tutti e vi do appuntamento con il prossimo video su quadricottero news